Quando lavorate, quando fate questo controllo, cercate anche di memorizzare questo stato, perché poi quando ripetete queste pratiche, ripetete questo esercizio di controllo, potete subito riprodurre quello stato che avete memorizzato prima. Sì, sì, grazie. Bene, e ora per noi è importante spingere questa sfera in avanti, quindi abbiamo lavorato con questa sfera, e poi continuiamo a trattenere la concentrazione e spingiamo questa sfera in avanti. E ora vediamo, vediamo, avanti, Sveto Sosdatore, in l'ambito realizzazione, con la sua sfera in avanti realizzati. Ma ora vediamo, in questa sfera in attesa, in questa sfera in attesa. Poi in attesa molto molto forte, con la sfera in attesa, politica, politica. e quindi noi spingiamo questa sfera e più lo spingiamo più la facciamo avvicinare all'area della realizzazione oppure si chiama anche il campo della realizzazione e ad un certo punto lì sentiamo anche il flusso che proviene dall'alto, dal creatore, che entra nella sfera del nostro controllo politico e questo flusso ha un colore bianco-dorato, è un flusso fortissimo, potentissimo che entra quindi e riempie con sé tutta la sfera Questa è la nostra idea politica che abbiamo formulato molto bene, molto chiaramente con le immagini, con le parole e anche con l'ideologia giusta E soprattutto quando avete già formulato per esempio il vostro obiettivo di pilotaggio chiaramente, quando l'avete formulato molto bene Ad un certo punto vedrete anche che scende la linea che arriva dal creatore ed entra in questa sfera Quindi noi così sincronizziamo con il centro, con il creatore e poi continuiamo a spingere questa sfera Praticamente con questa sfera del controllo politico noi sviluppiamo l'idea di Dio sullo sviluppo eterno Perché l'idea che includiamo noi, per esempio, che la persona è sana, è felice, quindi è completamente ripresa E tutti gli eventi nella vita di questa persona sono secondo la norma Allora noi chiaramente includiamo questa idea nell'idea globale di Dio Allora noi descobr metal